Ma voi sapete lui chi è? Forse l'avete visto insieme ai suoi fratelli al cinema. Lui si chiama Bob, è un Minions, alla ricerca del super cattivo più perfido per aiutarlo a conquistare il mondo. Ha un aspetto molto dolce e tenero, chi è che non lo vorrebbe abbracciare? Invece, sotto queste sembianze docili e gaziose, si nasconde una natura malvagia. E' proprio questo contrasto che li rende irresistibili. Questo simbolo non si trova solamente nei cartoni o nei film, ma anche in natura. Quante cose sembrano adorabili, ma poi possono non fare bene? Quindi, chi è Bob nel mondo reale? Lasciamo la terra ferma e ci immergiamo in fondo al mare e, wow, troviamo le stelle marine. Alcuni di voi avranno avuto la fortuna di vedere dal vivo, magari. Poi, col vostro acquario di Genova, possono essere grandi, piccole, colorate, maculate, a tinta unita, e sono un po' fragili non appena escono dall'acqua. Ma, voi lo sapete che esiste una specie di stelle marine, bella a vedersi, ma spietate? Si chiamano a Cataster Planci, o stella corona di spine, Bob per gli amici. Sono diffuse nei mari tropicali, possono raggiungere fino a mezzo metro di diametro e sono dotate di decine di braccia. Per difesa, come suggerisce il loro nome, sono completamente ricoperte di spine, le quali sono velenose sia per gli organismi marini che per l'uomo. In particolare, una puntura può causare dolore fino a quattro ore, con nausea e vomito. Per non parlare del bell'eritema e gonfiore su tutta la zona, non molto piacevole, direi. Oltre a essere irritanti, queste stelle hanno anche una dieta molto selettiva. Sono voraci di coralli, o meglio, dei polepi che costituiscono i coralli. Ma, quindi, come attono il loro piano malvagio? Le stelle corona di spine affamate, situate a diverse profondità, agiscono principalmente di notte, ad una velocità massima di 20 metri orari. Si arrampicano sui poveri coralli e, una volta estroflesso lo stomaco sui polipi, rilasciano enzimi digestivi e assorbono i tessuti organici di quei fatti. A questo punto non c'è nulla che i poveri coralli possano fare per salvarsi da soli. In condizioni normali, le popolazioni di Cataster Planci sono di dimensioni contenute, ma possono esplodere demograficamente, causando una massiccia distruzione di barriere coralline. Una singola stella, infatti, in un anno può consumare una quantità di coranno equivalente all'intera superficie di un campo da calcio. Inoltre, non è ancora ben chiaro il motivo esatto di questi picchi demografici. Ed è qui che entriamo in gioco noi ricercatori, i supereroi che cercano un modo per contrastare questo predatore aggressivo. In particolare, nel laboratorio di metabolomica NR, dove lavoro, abbiamo iniziato a studiare il metabolismo di queste stelle corona di spine, per cercare di scovare il loro punto debole e ridurre la loro invasione, prima che sia troppo tardi. Quindi, non ci resta che scendere in campo e vedere chi vincerà questo scontro, perché se loro hanno vinto una battaglia, noi puntiamo a vincere la guerra. Grazie. 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 Grazie.